Visionario, benvenuto in un nuovo video, Andrea Biancolli che ti parla. Oggi andiamo a vedere un caso studio veramente particolare di una persona che ha avuto un grande fallimento nel publishing, tanto che l'ha mollato, possiamo vedere proprio qui il calo delle royalties imbarazzante nel giro di poco più di un anno, proprio perché la persona aveva abbandonato publishing perché lo stava facendo in maniera non sostenibile. E poi vediamo un po' da aprile come, quando ha deciso di iniziare publishing, facendolo con senso e soprattutto essendo seguito da chi sa fare publishing, da chi ottiene risultati, è riuscito appunto a ripartire alla grande. Prima di iniziare con il video, come sempre, trovi il link in descrizione per scaricare il mio libro Vivere di Amazon, un libro pratico che ti guida nell'avventura del self-publishing e iniziare soprattutto nel modo corretto. Possiamo vedere in questo screen che ho fatto che questa persona con 102 libri ha guadagnato 106.249 euro, quindi una persona vedendo così potrebbe dire wow, potentissimo. Qui in alto ho invece scritto 80.000 euro con 92 libri nei primi 30 mesi di publishing a caso. Vedremo dopo che cosa intendo per a caso proprio andando a spiegarti i problemi che ha avuto questa persona. Dicevo che è partita, è avuto questi grandi spike con due mesi addirittura da 8.000 euro, un altro mese da 6.000, e poi dopo questo mese da 8.000 c'è stata una discesa molto importante. Questo perché, soprattutto perché una persona dovrebbe smettere di far publishing? Soprattutto perché i libri hanno smesso di vendere? Queste sono le due cose. Beh, sicuramente ha smesso di far publishing perché i libri hanno smesso di vendere. Perché questo? Perché aveva creato qualcosa di non sostenibile seguendo metodi poco funzionali e che effettivamente non possono portare a risultati. Infatti, degli 80.000 euro che aveva fatto, circa 65.000 li aveva investiti in ads. E capisci bene quindi che il margine risultava di 15.000 euro da cui togliere tutti i costi di lancio, di pagamento dei libri, pagamento degli audiolibri, dei virtual assistant, e tutto quello che è stato creato intorno. Questo perché? Perché veniva fatto publishing in un modo non corretto e questa persona l'ha capito nel momento in cui ha ricominciato. Allora, coi primi 30 mesi di publishing a caso ha fatto appunto tanto incasso perché abbiamo visto 80.000 euro, di cui 106.000 totali, ma poco margine. Le MS sono state gestite male. I titoli venivano creati in modo comune come la maggior parte dei publisher fa, come Keto Diet, Cricut for Beginners, Crochet for Beginners, Coloring Book for Kids di tutti i tipi possibili, immaginabili e quant'altro. Questa roba qui l'ha portato a creare diversi libri, andare in pubblicazione massiva senza riuscire a creare qualcosa di sostenibile nel tempo, tant'è che appunto abbiamo visto, c'è stata una discesa molto forte nel tempo, è arrivato addirittura a guadagnare qualche centinaio di euro senza più fare ads, che comunque era un ottimo risultato rispetto a guadagnare 8.000 magari spendendone 6.500 di ads, ok? Questa persona ha deciso appunto di ricominciare a far publishing, mi ha contattato a marzo dicendomi Andrea guarda io vorrei ricominciare publishing, sono convinto di ricominciare publishing, però non nel modo che facevamo prima, visto che tu comunque in questi anni stai continuando a spingere, sta andando molto bene la cosa, quindi vorrei che mi seguissi. Quindi ho deciso di seguire questa persona e a marzo appunto siamo partiti con la pianificazione di quello che sarebbe stato tutto il mese di giugno, perché abbiamo detto più o meno due o tre mesi per iniziare, per rimetterti in carreggiata, per fare il setup di tutto, per creare i libri, e abbiamo creato due serie di libri da 5 e quindi abbiamo creato 10 libri con il tempo. Siamo usciti il primo mese con 5 libri più 2 che sono usciti praticamente alla fine, adesso ti mostrerò i risultati, però questa persona in 5 mesi è andata a ottenere 25.000 euro, di cui solo con i libri che abbiamo creato, circa 19.000. Gli altri 6.000 invece siamo andati un po' a sistemare libri vecchi che aveva già per potergli permettere nuovamente di vendere, perché qualcosa di salvabile c'era, abbiamo dovuto ovviamente fare delle modifiche, come cambiare la cover, cambiare la descrizione, cambiare la più, ripartire con le ads, cercare di far tutto al meglio, ovviamente cercando di salvare il salvabile, perché quando le cose vengono fatte senza senso e senza capire che cosa si sta facendo, si rischiano di fare tanti casini, come è successo proprio a lui. Giugno, abbiamo pubblicato i primi 7 libri, possiamo vedere che ha incassato 2.299 euro con praticamente 4 libri, 5 libri direi che hanno venduto abbastanza, potremmo contare anche il sesto che è arrivato a 180 più l'ultimo a 130, però possiamo vedere che già c'era una strada ben delineata, con 4 libri che stavano spingendo più del doppio degli altri 3. Luglio, un nuovo lancio solo, possiamo vedere che i libri che hanno fatto 484, 463 e 4.46 hanno continuato ad andare bene, 665, 534, 521, e poi c'è stata una nuova salita con il nuovo libro che ha fatto 77 euro. Possiamo vedere poi agosto, tra l'altro a luglio abbiamo chiuso 2.700 euro, a giugno 2002. In tutto questo conta che io cerco sempre di stare con un investimento tra il 20 e il 30% nelle azze, insegno proprio alle persone come gestire il tutto, cercando di rimanere in questi margini, anche perché è inutile avere dashboard giganti se poi si ha poco margine, è meglio investire 1.000 e fare 2.000 che investire 8.000 e farne 9.000, questo ovviamente è pratico, però molte persone si fanno ammaiare dalle dashboard da 9.000, 10.000, 15.000 quando poi magari ci sono spese dietro molto molto grandi. Dicevamo luglio 2.700, agosto 3.164, sono usciti i nuovi tre libri, infatti possiamo vedere 88, 31 e 22 euro che erano in fase di lancio, con i libri top, quelli che sono partiti il primo mese con 400 euro circa, che sono arrivati a fare 700, 600 e 600. Abbiamo avuto poi settembre, che è stato un po' un mese in calo, però siamo rimasti comunque abbastanza stabili, con una salita comunque perché abbiamo fatto agosto a 3.100, con gli stessi libri e con l'ottimizzazione che abbiamo combinato, siamo arrivati a 3.900, quindi abbiamo fatto un altro scalino facendo più 800 euro. E poi siamo arrivati a ottobre 2023 con 4.300, questo screen è di circa una settimana fa, questo mese è un mese un po' particolare, probabilmente chiuderà poco sotto rispetto a ottobre, probabilmente intorno ai risultati ottenuti a settembre, però vediamo un po'. E' importante comprendere e seguire proprio questa salita qua, che è una salita molto molto importante, perché ci fa capire effettivamente come fare publishing in modo corretto, ci porti anche ad avere una visualizzazione di quello che sono i risultati, che hanno un costante, una costante salita, che questa è una cosa molto importante, perché spesso ci può stare che ogni tanto ci sia una discesa per qualche motivo, perché magari è un mese che non va tanto bene, perché sono entrati nuovi competitor, eccetera, però se facciamo publishing con testa, riusciamo a fare una roba del genere, ok? Quindi in questo caso questa persona è arrivata appunto a guadagnare lo scorso mese circa 4.300 euro, di cui togliamo un 30% a star larghi e fatto 3.000 euro netti in solo ottobre, avendo ricominciato a far publishing praticamente al quinto mese, ok? di pubblicazione vera e propria. Quindi è un percorso che va molto a goccia su goccia su goccia cercando di costruire quello che è il nostro brand. Proprio in merito a questo ti rimando alla sezione, al video che ho creato nella sezione vendita avalanga, un video che dovrebbe uscirti anche qua sopra in questo momento, un video dove fondamentalmente facevo vedere come con un libro una persona che ha seguito per i primi 40 giorni di lancio ha fatto 558 ordini e qui oggi ti porto dei risultati perché questo è stato uno dei risultati più grandi che ho ottenuto con addirittura 402 euro incassati nel 27 di novembre, quindi praticamente in un giorno, no? Possiamo vedere il primo screen che ho pubblicato che è di una storia che ho pubblicato su Instagram. Tra l'altro se non mi segui su Instagram, seguimi perché lì anche posto continuamente sia ispirazione nelle storie ma anche contenuti tutti i giorni a livello di Reel. Vediamo qua che zoomiamo il primo screen, 97 unità ordinate di cui 61 di un libro e 18 di un altro che è in fase di lancio. Nello zoom 2 ho spiegato proprio che i due libri lanciati con me sono i primi due e il resto è stato fatto con quelli che io chiamo i pesci vendoli del self-publishing, quelli che non fanno self-publishing ma vogliono insegnare a far self-publishing, no? Quindi di base il secondo libro è in fase di lancio, possiamo vedere che ha fatto 18 ordini ieri, il primo con 61 ordini ha fatto 402 euro e quindi questa è anche una cosa molto importante, avere margini da 6 o 7 euro a copia ci permette di fare tanti, tanti soldi. Poi qua ho messo lo screen di un'altra persona che mi ha scritto stamattina, che è un altro studente e che ha iniziato da poco, anche lui, che solo nell'ultima settimana praticamente dovrebbe essere... Sì, dovrebbe essere... Questi sono i libri che abbiamo visto in call, di ads per questi due mesi ho speso 220 euro, quindi, vedi, si rimane sempre a circa intorno al 20-30% di costi a livello di ads, perché comunque sia per gestire un business sostenibile è molto importante avere dietro delle basi che ci permettano di sostenere il tutto. E poi ho messo un altro screen di un altro studente, sempre di ieri, mi stanno arrivando tantissimi screen in questo periodo, anche perché è il periodo caldo. Partiamo con gli errori che questa persona ha commesso. Primo errore è sicuramente quello della ricerca, anche qui, nei vari video che faccio ne parlo spesso, questo per il semplice motivo che la ricerca è la chiave per far publishing nel modo corretto, nel senso che se noi andiamo dove c'è tanta ricerca, noi possiamo vendere tanto, però è chiaro che dove c'è tanta ricerca, anche nei termini che ti dicevo prima, Keto for Beginners, Crochet for Beginners, Cricut for Beginners, e tutte queste robe qua che piacciono tanto a tante persone, si piazza o chi sa cosa fare, oppure si piazza chi ha fortuna, perché capita a volte di piazzarsi e iniziare a vendere perché si ha una botta di fortuna, ok? Però poi succede che, esattamente come questa persona che mi ha chiesto di rimanere anonima, si parte verso l'alto, si va verso l'alto e poi si crolla, perché si dice, ok ma ce l'ho fatto una volta, perché adesso altre nove volte non ce la faccio. Quindi il motivo principale di questo è la ricerca, e soprattutto l'analisi di quello che è il punto dove andiamo a pubblicare il nostro libro, ok? Un altro errore sicuramente commesso è la cover, abbiamo visto come circa si è riusciti a recuperare qualche libro facendo semplicemente una modifica alla cover e alla descrizione, che sono alcuni dei paletti fondamentali, quindi anche lì quando ci sono dei libri che non vendono spesso sono le cover che non vanno, se la ricerca c'è, e ovviamente anche se riusciamo a sostenere tutto quello che riguarda il fattore competizione. Un altro errore che poteva essere commesso su un libro o non è stato commesso su un altro invece sì, è il fatto della descrizione, sia riusciti appunto a recuperare quei libri e uno soprattutto aveva una descrizione veramente troppo basic, gli ha più, ai tempi non c'erano infatti lui, non li aveva inseriti. Un altro errore sicuramente è quello del lancio, il lancio è stato fatto male, non è stato fatto con una salita graduale del prezzo ad esempio, è stato fatto, attenzione, questo non vuol dire che dobbiamo mettere i libri al minimo quando escono, perché sennò buttiamo solo soldi in ads senza far vendite, come sanno alcuni visionari e stanno vedendo in queste settimane, ho dato un consiglio molto importante, quello di alzare i prezzi, effettivamente, alzare un prezzo da 6,90 a 7,90 non fa una differenza per gli altri, ma per noi la fa, soprattutto perché andiamo a guadagnare molto di più in termini percentuali sui nostri margini, e poi soprattutto la cosa principale, che è un errore di tanti, è che le ads vengono fatte in modo scorretto, e quindi questo porta a fare errori molto banali, che ci vanno a costare molto, e quindi se andiamo a incassare 80 euro di royalty, ma ne spendiamo 65 per fare le ads, di cui magari le ads ci vendono pure meno, e quindi magari facciamo 40 euro di vendite organiche, 40 euro di vendite in ads, e quindi nella totalità andiamo sotto. Quindi anche qui la cosa molto importante da fare quando si fanno le ads, è gestirle nel modo corretto, andare a valutare quali bid inserire, quante keyword inserire, vi ricordo sempre che le keyword devono essere poche, devono essere prevalentemente inesatta, nei mercati più grandi, nei mercati più piccoli, vanno bene anche in generica, però non devono essere mai troppe, e soprattutto dobbiamo andare a gestire i bid, in base a quello che sarà il costo per click, e il nostro margine, e in base a quello che abbiamo come dati nelle vendite. Che dire, io ti ricordo di seguirmi sui vari social, di iscriverti al canale, di lasciarmi un like, di commentare se hai qualche domanda in merito, che magari vi posso rispondere tramite un video. Ringrazio per avermi seguito in questo video, e ci vediamo al prossimo. Ciao da Andrea Biancola.